La provincia di Verbagna per restare in piedi prima deve fare i conti con quello che dirà lo Stato e mi ha fatto molto dispiacere che il Presidente della provincia ha pensato solo a difendere la provincia e non ha pensato ai piccoli comuni a tutto quello che era contenuto in questo decreto. Dobbiamo farcela da soli e ce la faremo da soli. Con la provincia di Verbagna noi dobbiamo rifare i conti. Se l'Ossola deve continuare ad appoggiare e rimanere nella provincia di Novara i conti vanno rifatti. Non possiamo continuare a mantenere una provincia che all'Ossola molto probabilmente addirittura sotto certi punti di vista ci danneggia.